Eccoci, torniamo a parlare, ne abbiamo parlato molte altre volte, ma a volte è giova tornare e rimettere un po' in fila le cose e le conoscenze. Parliamo dell'effetto Serra, sapete che quando si parla del cambiamento climatico si fa riferimento sempre all'effetto Serra. L'effetto Serra è un meccanismo molto semplice, a differenza di altri che sono un po' complessi, questo è un meccanismo che noi possiamo toccare con mano anche nella nostra vita reale, sapete cos'è, come funziona una Serra, ma restando proprio, uno dice io in campagna non ci vado, non so come funzionano le Serre, ma probabilmente avete una macchina, avete lasciato una macchina al sole durante l'estate, perché dentro si arroventa e raggiunge temperature anche di 60-70 gradi che fuori non ci sono, perché la luce attraversa il vetro e la macchina è una Serra in qualche modo, attraversa il vetro, colpisce i materiali dentro, il cruscotto, i sedili, questi si riscaldano, ma il calore non esce dal vetro, quindi il vetro fa passare la luce, ma non fa passare il calore e il calore rimane dentro e quindi si accumula, quindi aumenta e quindi abbiamo temperature decisamente più elevate di quelle che ci sono fuori. L'atmosfera intorno alla Terra crea un effetto Serra, quindi attenzione, l'effetto Serra non è negativo in sé, è quello che rende possibile la vita sulla Terra, perché sulla Luna non c'è atmosfera e si va dai 120 gradi sopra zero di giorno ai circa 120-150 gradi sotto zero di notte, cioè la vita sarebbe un pochino complicata. Sulla Terra invece questo sbalzo è minore. Come funziona? Perché l'atmosfera funziona da Serra? Abbiamo trovato due schemi molto semplici. Il Sole riscalda la Terra, non riscalda l'atmosfera direttamente, attraversa l'atmosfera, come la luce attraversa il vetro della nostra macchina, colpisce la Terra, la riscalda, questo calore in parte viene riemesso verso lo spazio, cioè riva via, in parte viene trattenuto dall'atmosfera, cioè dal nostro vetro e quindi l'atmosfera diventa più calda. Questa è una situazione di equilibrio, energia che entra, si trasforma in calore, questa calore in parte se ne va e in parte rimane e questo consente la vita sulla Terra. Vediamo però con l'altra immagine che cosa succede. Qui è divisa proprio in due parti, Greenhouse sarebbe la Serra, naturale, cioè la situazione normale, quella che abbiamo visto, entra la radiazione, il calore in parte viene riemesso verso lo spazio e in parte viene trattenuto dall'atmosfera per effetto della presenza di questi gas, metano, anidride carbonica, biossido di azoto, CO2, insomma ci sono diversi gas che hanno questo effetto che è positivo per la nostra vita, ma l'aumento, il peggioramento dovuto all'uomo fa sì che una parte venga riemessa verso lo spazio, ma la parte che rimane intrappolata dall'atmosfera è troppa, perché ci sono troppi di questi gas, non è una favola, sono dati, qualcuno dice sì ma anche nel passato, no, no, vi faccio vedere questa tabella che rappresenta una situazione che non è mai esistita nella storia della Terra, perché milioni di anni fa c'erano anche temperature più alte di adesso, ma il passaggio dai periodi più freddi ai periodi più caldi durava 20.000 anni, la nostra storia ne ha soli 3.000 e guardate cosa è successo negli ultimi 200, nell'era preindustriale questo numero sono parti di CO2, parti per milione, ma ci interessa il numero, il valore era da 280, dopo 200 anni, l'era industriale in cui si è bruciato petrolio e carbone, queste parti per milioni, cioè questa quantità è diventata 350, cioè è aumentata del 25% in 200 anni, dopo altri 25 anni, quindi siamo a circa 10 anni fa, i valori della CO2 sono arrivati a 390, vale a dire che in 225 anni è aumentata del 40% e in soli 25 anni è passata dal 25 al 40%, negli ultimi 10 anni è arrivata a 415, cioè è aumentata del 50%, sta accelerando la velocità con cui la CO2 aumenta nella nostra atmosfera, questo ha già portato dei cambiamenti del clima, ma questa velocità ne porterà molti altri, dobbiamo fermarla? Forse è difficile, ma dobbiamo rallentare ad ogni costo questo aumento così rapido, perché se ci ha messo così tanto a fare il primo passo e così poco ad aumentare negli ultimi anni, il futuro non è assolutamente roseo. Alla prossima!